Buongiorno, oggi è 16 dicembre mi pare, no? Sì, 16 dicembre. Abbiamo fatto queste stesucce. Allora, qui ci sono camille con carota, mandorle e succo d'arancia. 340 grammi, costano abbastanza, 485, ma non si fa fatica, sono già pronti. Poi nettare di pera, eccola qua, un litro, pera, succo di pera, giolli colombani, sarà la marca questo, ne so che ha detto. E costa, nettare di pera, 1 euro e 39, non costa molto. Questo invece è il succo di spar, sempre un litro, e costa 1,99, questo è ananas. Poi c'è uova, queste nuova sono ova food, allevamento a terra, uova grande, sono 1,95 euro. Speriamo che siano veramente grandi, perché tante volte mettono una cosa e non corrisponde quando le guardo. Allora, metti con la minestra che mi piace. Allora, questi sono al chilo 1,79, hanno pesato 1,50 grammi totale, 1,88 euro. Sono buoni con molta qualità. Poi c'è farina, barilla, 0,0, grano tenero, eccola qua, di grano tenero, sì, per i dolci già barboli. Allora, questa è 1,25 al chilo, un'altra, e sono due, sempre 1,25. Poi latte intero, barborea, molto buono i latte, barborea, 2,19 euro. Totale complessivo, 16,76 euro. Centesimi. Centesimi, sì. Poi c'è un po' di carne. Lo facciamo da capo allora? Sì, no, 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 farò vedere. Ho fatto un po' di carne. Un po' di carne ho preso. Sì. Dalla macelleria Oggiano via nazionale. Vaccinato, ah, fra tagli di govino adulto, sarebbe del fegato, a 14 euro, ha pesato 342 grammi, totale 4,79. Poi ho preso, questo cos'è? Ah, dell'ardo, pezzo di lardo, che ha pesato 38 grammi e 50, 358 grammi a 12 euro a sono 4,48. Poi del vitello macinato, spezzatino di vitello a 13,90, che con quello l'ho fatto macinato, farò delle polpette e metterò in frizzi. Allora, ha pesato 664 grammi, totale 6 euro e 45, poi ho preso un pezzo di salsiccia, questa è con l'aglio, è buonissima, ha pesato 464 grammi, no, mi sto sbagliando, sì, 600 grammi, 144 grammi, 11 grammi, 11 grammi, 6 grammi, è uscito 7 euro e 41, allora, con il lardo e con la salsiccia e con il fegato farò degli spiedini, tipo rivea, vediamo che saranno molto buone, l'ho fatto in qualche altra cosa, e la spesa di oggi è questa, se non ci vediamo, buon Natale a tutti, buon Natale con la gioia che siamo qua, e dobbiamo ringraziare tutto il Signore, anche per questa Pasqua che ci fa contemplare nella fede e nella speranza, che si porti via tutte le guerre, tutti i malumori, che si porti via questo Natale, questo Santo Natale, tutte le guerre, tutti i dissapori del mondo utero, che sia la pace universale, auguri di buon Natale, arrivederci. Ciao ragazzi, a presto, e un bacio, ciao, buona visione, buon pranzo, ciao ciao. Scusate ragazzi, un'altra clip per il video della spesa di oggi, il totale delle macellaio Giano, si era dimenticata, si era dimenticata mia nonna, vabbè, non importa, faccio un'altra clip, poi vi edito il video, allora, vi monto il video, dunque, 23,13 euro, basta, a posto così, ciao ragazze, a presto, un bacio, ciao.